Salve a tutti ragazzi, benvenuti, è il caso di dirlo, dopo tanto tempo con gli spacchettamenti Pokémon. Perché così tanto tempo? Perché c'è stato Diamante, poi c'è stato Arceus, che ovviamente ho portato la serie completa, poi c'è stata una piccola, lunghissima parentesi chiamata Elden Ring, che io ho registrato, ma poi alla fine non ho portato perché la portavano praticamente tutti, quindi ho detto, boh, vabbè, non vale troppo la pena. E questo mi ha portato un attimo distante dagli spacchettamenti. I spacchettamenti torneranno momentaneamente, solamente ogni due settimane, quindi una settimana sì, una settimana no. Non so se farla di lunedì o di martedì, sto registrando domenica comunque, per i più curiosi, quindi un attimo da vedere. E ovviamente sarà ogni due settimane, momentaneamente, perché voglio integrare anche le serie. È anche vero che momentaneamente non c'è nessun gioco che mi ispiri portare, quindi piuttosto che portare qualcosa che non mi piace, in cui il gameplay si vedrebbe che non mi sta entusiasmando, preferisco non portare nulla. Quindi per ora godiamoci gli spacchettamenti, uno ogni due settimane. Poi li integrerò in qualche modo anche con le serie, perché più avanti uscirà tanta tanta roba. Comunque, detto questo, siamo con la... 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 La tincesto, oddio. Con la borsetta porta pranzo, per intenderci, del venticinquesimo di Pokémon. Guardate che sono molto belli questi dettagli. Abbiamo Mudkip, abbiamo Cicorita, c'è anche Squirtle. Sono tutti gli starter delle generazioni passate, con un sacco di tesori Pokémon. Tre cartelografiche. Ovviamente abbiamo Mimikyu Alpha, scusate Alpha, specie Delta. Abbiamo Light Toxtricity e abbiamo anche un E-Dragon C. Poi abbiamo anche sei buste delle carte del venticinquesimo e due buste aggiuntive. E tanto tanto altro ancora, che ovviamente è molto molto bella. E quel tanto tanto altro ancora sappiamo già che si riferisce ovviamente ai classici... I classici... Ah, qua è un po' piegato, peccato. Vabbè, non è perfetta, pazienza. Ai classici adevisi e quant'altro. Allora, cominciamo subito con... Vediamo se mi ricordo ancora come si aprono le carte. Esattamente. Con la monetina, molto molto bella, molto anche molto grande, del venticinquesimo. Poi abbiamo... Allora, un attimo che ci riesco, eh, ci riesco. Abbiamo Mimikyu, eccolo qua, specie Delta. Le specie Delta erano dei Pokémon usciti per la prima volta nel blocco di Rubino e Zaffiro, se non ricordo male, che era prendere dei Pokémon e cambiarli il tipo. Infatti qua abbiamo un Mimikyu di tipo Acqua. Cosa che ovviamente non può esistere. Poi abbiamo Light, Tostricity. Non so i Pokémon Light in che espansione siano stati inseriti. E poi ovviamente abbiamo anche iDragon C. Anche le lettere, quindi C, non so dove li hanno inserite, sinceramente, perché poi avevo smesso un pochino di seguire il gioco. Belli gli artwork. Mi stupisce un pochino la scelta dei tre Pokémon. Avrei scelto altri Pokémon, ma tante hanno fatto le loro scelte. Abbiamo qua le buste che sto... Abbiamo anche ovviamente il codice. Devo un attimo riprendere, tra virgolette, ma mettere a fuoco con il telefono, ma anche rimettere un attimo mano ai spacchettamenti, perché sono un pochino arrugginito, mettiamola così. Abbiamo le sei buste da quattro, le due buste di Fragole Ribelle, ok. Poi ovviamente abbiamo tanta altra roba. Allora... Ah, ecco qua, abbiamo il foglio che ci illustra ovviamente i Pokémon Lite, Nio Destiny, ok. I Specie Delta con appunto ex Specie Delta e i Pokémon ASP in Platino. Ah, ok, ma con Platino ero già proprio già su un altro mondo. Giocavo già... Giocavo con Magic praticamente in quell'epoca. Allora, poi abbiamo il classico portacarte che le tiene malissimo, non ve lo consiglio personalmente. Blocco notes, ok. Molto caruno, caruccio, se qualcuno vuole scrivere qualcosa. E poi abbiamo il set di adesivi molto carini, però non so dove possiate attaccarli, perché non ne ho idea se poi vanno a rovinare... Boh, non so, magari qualcuno mi attaccherà sulla scocca della Switch. Un po' eretico forse, ma vediamo. Allora, iniziamo con i pacchettini normali e teniamo il venticinquesimo per ultimo. Il venticinquesimo che io avevo comunque aperto in... praticamente tantissimi pacchetti e avevo trovato un sacco di roba, quindi manca veramente molto molto poco. Abbiamo un lombre, miniera di Galar, abbiamo un Surskit, abbiamo un Magikarp, un Meditite, abbiamo un Milkry, un Growlite, uno Shizo e un Aegislash. Benissimo. Primo pacchetto, non c'è praticamente nulla e non avevo molti dubbi a riguardo, perché diciamo che ho avuto una fortuna un po' altalenante negli spacchettamenti, specie con gli ultimi. Non trovavo praticamente nulla. O mi va bene, ma proprio bene bene bene, o non trovo praticamente niente. cioè non c'è una via di mezzo, non è che dici un po' bene, un po' male nel... No. Energia Metallo, Cortile, abbiamo Lampent, mi scuso se il spacchettamento di oggi è un po' scuro, però prossima volta si stiamo meglio la luce, scusate. Coffing, Grimsnal e Darmanitan di Galar. No, ok. Due pacchetti che potevano stare, come dico sempre, chiusi e potevano stare sealed. E poi abbiamo i sei pacchetti. Qua abbiamo dato tanta roba. Mi manca... Cosa è che mi manca? Charizard, Mew, Umbreon e penso nient'altro, quasi. Abbiamo Grodon, Cosmog, Palkia e Lunala e ovviamente la carta codice. Bene. Primo pacchetto andato. Allora, portare gli spacchettamenti ogni due settimane non prendetevela male, ma insomma momentaneamente... Uh, c'è qualcosa qua. Sarà il Pikachu quello che vola, solito. Zekrom Iveltal Co... Eh, che avevo detto? Pikachu volo. E perché conto più avanti, in futuro, magari di portarvi anche qualche chicchetta del mercato americano che gli hanno veramente molta, moltissima roba. Quindi, per ora, così. E vediamo, anche perché preferisco darvi qualità che quantità e sinceramente due settimane erano oggettivamente troppi. Sia per i miei ritmi, sia per il costo, sia perché comunque nessuno me li finanzia, quindi... Allora, Cosmog, se qualcuno vuole finanziarmeli, io sono ben lieto di portarli. Zekrom e Mew. Non è il Mew che cerco, però, eh. io cerco il Mew Shiny d'oro. Mi sa che questa Finchest poteva starsene bellamente. Che chiusa. Un ottimo modo per ricominciare a spacchettare, cioè non trovando niente. Lugia, Xerneas, Chiogre e Pikachu. No, mi sa che due pacchetti... Allora, mi basterebbe Charizard, almeno faccio il tricco degli starter e mi andrebbe decisamente meglio. Proprio, mi basta lui, mi basta per salvare qualcosa. Cosmog, Ivertar, Dark, Geridos, Zamazenta. Questo... li avevo entrambi. Mi mancava Zamazenta. Questo ce l'avevo. Sono sicuro. Però è bello. Zamaz... Sono un attimo perplesso, non me lo ricordo. Nel dubbio diciamo che mi manca. Così almeno dico ok con quello che mi è costata la chest almeno ho dato una carta che mi mancava. Me lo dico tanto per dire perché non sono sicuro poi andrò a vedere. Poi abbiamo Xerneas nell'ultimo pacchetto. Reschira, Donfam ce l'avevo e Ricerca Accademica. Allora, gli ultimi due pacchetti hanno dato forse la più quality con Zamazenta da Regalidos e Donfam. Però ormai il set era molto piccolo. Le carte le ho quasi tutte. Vi porterò un'altra chest così boh vediamo avendo due settimane di tempo posso anche pensarci o vedere se trovo qualcos'altro nel qualcos'altro di meglio magari nell'internet. Comunque lo spacchettamento di oggi termina qui. Sono contento di essere tornato. Spero che abbiate apprezzato. commentate condividete iscrivete un bel pollice nell'insù per questa sfortuna nera che alla fine le tre carte di iDragon Toxtricity e Mimichi usate le carte migliori del drop. Grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi qui